Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea Ross at Let's Play FIFA, www.lettsplayf.it, link pagina Facebook in descrizione e sono quelli del review di Alberto Paloschif, l'attaccante del Chiusi ha guadagnato questa carta if per aver realizzato due tre goli e anche un assist nell'elettore 4-2 della scorsa settimana su Livorno Lui si presenta con 78 di roll, 80 di velocità, 75 di tiro più 8 rispetto alla sua versione non in forma 58 di passaggio più 5, 74 di dribbling più 2, 80 di testa più 1 e vabbè poi 46 di difesa ma diciamo questo è poco indicativo, non c'entra niente per molti attaccanti se uno tipo Cavani invece la difesa è anche importante comunque andando a vedere un po' di sensi in game salta l'occhio il 97 di finalizzazione che per avere il 75 di tiro è qualcosa di impressionante, 92 in rigore, 86 in potenza tiro, 89 di tiro al volo e caratteristiche fisiche tutte tra il 76 e poi l'86 a parte la bella stamina che è sempre 99 negli if e 83 di posizionamento offensivo, 4 stelle via debole, 3 stelle skill, work rate medio medio, 2 alti 1, 82 andando all'elenco di top e flop, questi passaggi 58 però più 5 spettazioni non in forma si sentono infatti il passaggio corto che è di 64 che promette di fare molti 1 o 2 senza sbagliarli e ogni tanto mi vanno bene anche dei passaggi lunghi nonostante lui abbia 39 in long passing però come vedete qua i lanci saranno che sono baggati su questo gioco però a me non venivano affatto male andando avanti oltre ai passaggi come top, anzi aspettate, passaggi sì ma il cross no, il cross non è veramente niente di che non vi consiglio di andare a crossare con questo giocatore comunque diciamo andando avanti nell'elenco di top e di flop qua c'era ancora una clip di Ljandanovic ma sono dettagli questi scusate però vabbè comunque dicevo andando avanti nell'elenco dei top come top c'è sicuramente la finizzazione finizzazione perché in area 97 con 86 di potenza tiro veramente è difficile far sbagliare questo ragazzo quindi se gli arriva un pallone lui potrà smarcarsi in qualche modo e poi in area sicuramente non sbaglierà o meglio 9-10 anche 97 su 100 come dice il 97 in finalizzazione lui lo butta dentro poi un altro top è la velocità perché da questo ragazzo mi aspettavo una velocità simile a quella tipo di destro if dell'estrosif, di mob leaf invece a me è sembrato molto più veloce infatti l'accelerazione è veramente ottima, 81 la velocità scatola è 81, sembra ancora più alta perché infatti questo ragazzo prende velocità ma a mano che corre quindi voi riuscirete a smarcarvi dagli avversari solo correndo perché solo correndo? perché il dribbling per il controllo palla pessimo 79 sulla carata ma a me sembra sul 60 e le 3 stelle skill è quasi difficile, è quasi impossibile dribblare con lui infatti per smarcarvi consiglio o gli 1-2 oppure palla lunga e corro perché smarcarsi con Paloski è una delle cose più brutte ora abbiamo citato un flop e citiamo anche l'altro ovvero la forza fisica 76 di forza fisica con 79 equilibrio io mi aspettavo qualcosa di più da un ragazzo 1,82 per 82 kg quindi sono rimasto un po' deluso da questa forza fisica che non è veramente niente di che infatti spesso mi capitava con lui di cadere e mi dicevo perché pensavo a essere più forza fisica invece avevo scoperto che ha questo valore di forza fisica totalmente mediocre e allora ho capito che era normale che succedesse però la forza fisica quindi è per forza un flop abbiamo citato potenza di raffinizzazione e passaggi come il top la velocità anche citiamo anche il colpo di destra perché questo ragazzo ha 80 le colpo di destra con 86 di salto 80 di precisione e altri 1,82 magari non prende bene la posizione perché la forza fisica non è gran che però se gli arriva palla che lui è solo lui le indirizza quasi sempre all'angolino o comunque salta e poi la piazza bene e la porterà per serio e deve fare un miracolo per levare l'incrocio e ultimo top ci stanno le 4 stelle pedebole infatti dentro l'area di sinistra con questo ragazzo non avevo nessuna difficoltà a concludere anche gli 1,2 con il sinistro riuscivano molto bene ora ci stanno caratteristiche proprio mediocre come il tiro a giro 70 che non vi consiglio di tirare a giro però fuori area è sempre meglio che fare un long shot perché lui ha 51 di long shot che si è visto in game perché insomma proprio non vale di niente poi lui è bravo nei rigori non nelle punizioni nonostante pria stessi per fare un gol come avete visto quindi questo ragazzo costa 9600 grigli voi lo potete scartare presso che più o meno per la stessa cifra quindi se volete proprio farlo per me potete farlo tanto siete sicuri di non perdereci niente solo scartandolo questo è il ripeto di top e flop con long shot e tiro a giro sono creato di schemi detto questo io vi saluto e noi ci sentiamo al prossimo video bye bye